Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube oppure su Instagram, il link come sempre lo trovate qui sotto in descrizione e unitevi al canale Telegram anche quello sotto in descrizione. Oggi farò recensione, visto che è finito, di Starving Anonymous, edito da Star Comics a 5,90€ con sovracoperta, 7 volumi totali, già questo capite più o meno il genere, è un genere escape horror, parla di questo pianeta Terra normale che c'è qualche strano forma di surriscaldamento globale che anche a marzo sembra di essere estate. Il protagonista, Ye, viaggia su un pullman tranquillo e beato, a un certo punto tutti gli altri si addormentano. Lui abbassa la maschera, vede l'autista che si gira e si addormenta per questo gas che ha messo l'autista nel pullman. Si risveglia in un posto strano con tanti corpi ammassati insieme e vede cose strane. Finisce, vede un posto, ci sono persone molto grosse attaccate a un tubo che pende dall'alto che vengono rifornite di cibo. L'unica cosa che fanno praticamente tutto il giorno è mangiare cibo in continuazione. Poi, il clou vede una specie degli insetti giganti, che sono più mostri che insetti giganti, che divorano esattamente questi umani. Lui cerca di scappare, cerca di sopravvivere, si nasconde attraverso i condotti di areazione, incontra una persona pazza e psicopatica che gli spiega è quella che si chiama la culla, è un posto dove vengono portate delle persone per essere divorate da queste creature. Oppure si vanno negli esperimenti per cambiare la forma, l'aspetto, renderle più forti, oppure farli prochiare in continuazione, eccetera, eccetera. E questo è un bel mistero, come può esistere una società moderna, un posto che nessuno conosce, nessuno parla, ma soprattutto di queste creature che divorano gli uomini e non sa bene spiegarsi il motivo. Lui che cosa che vuole è scappare da lì e salvarsi. Succederanno varie cose, incontrerà diverse persone. Questo Natsume, che si scopre ad essere un autorigenerativo, praticamente è immortale. E' l'esperimento finale che queste creature facevano per creare un corpo, una persona, che continua a rigenerarsi per far sì che la mancanza di cibo non ci sia. Anche se lo mangi, continua a rigenerarsi. Basta che ci sia una parte, lui continua a rigenerarsi. Poi incontra questo Nnamabiki, che scopre che se gli dà un morso, mangia qualcosa, può assumere quale caratteristica di qualcosa o crearla. Piano piano emergerà a galla la realtà scomoda, conterranno la regina di queste creature, e attraverso un discorso si capirà che loro vengono da un pianeta lontano e a causa di loro stesse hanno, erano sovrannumero, il cibo era finito e rischiavano l'estinzione. Quindi ha deciso un certo gruppo di migrare su altri pianeti e sono migrati sulla Terra agli arbori della sua nascita. Hanno tentato, hanno modificato delle scimmie per farle evolvere il genere umano, così per avere del cibo. Come noi alleviamo le mucche, selezioniamo gli animali per avere del cibo, loro ha selezionato queste scimmie per farle evolvere nel numite che c'è adesso, per avere sempre del cibo pronto, regolato, perché se no finirebbe per autodistruggere anche questo pianeta, perché adesso non uscirebbero più evade da questo pianeta, quindi cercano di comunque regolare il bestiame, tra virgolette. Quindi ricorda un po' The Promised Neverland, diciamo un po' su sta cosa. Quindi se vi piace The Promised Neverland, mi piace anche questo. e arriviamo al clou del penultimo volume che si vede che tutte queste creature figlie dei figli che si generano in continuazione evadono e escono fuori in tutto il mondo per cercare di mangiarlo. E qua finiva il sesto volume. Col settimo, che è un'assurdità dietro l'altra, piena di splatter, tante cose che succedono, ovviamente adesso farò un po' di spoiler, quindi magari saltate un minuto, saltate un minuto, o comunque vi scrivo qua sotto che minuto arrivare. Ecco, parla. Arriviamo qua nell'ultimo volume che esattamente questo Natsume, che siccome è mortale, è scogito a un piano con i Yamabiki, cioè che gli fa mordere un pezzo di se stesso per continuare a generare dei neonati con le stesse caratteristiche di Natsume, che crescono in pochi secondi, quindi essere tanti autorigenerati che invogliano tutte le altre creature sparse per il mondo a convogliarsi lì e una volta che si sono convogliate lì, la maggior parte si ammazza e si mangia tra di loro perché c'è penura di cibo in quel poco posto e cerca di entrare in questa struttura. Natsume, alla fine, decide di sacrificarsi e restare lì per farsi mangiare, di volare, continuazione, chiudere tutta la struttura e permettere a Ye, che è protagonista, di evadere. Solo che Ye ha dei sensi di colpa terribili e non vuole lasciarlo lui, però viene convinto e va dopo tre anni che comunque soffre di sta cosa, di questo senso di colpa, lascia tutto e si reca su quel posto dove è tutto smantellato ormai e cerca di scavare, scavare privo delle forze trova proprio Natsume che gli spiega come ha fatto evadere grazie diciamo al morbo della mucca pazza modificato, cioè il concetto è quello quindi è un finale un po' strano che non ti aspetti capirlo un po' così però a particolare non mi è piaciuto proprio così tanto il finale avrei fatto meglio perché alla fine è finito in poco col sesto volume sembrava la catastrofe e l'apocalisse è bastato poco alla fine per ammazzare tutti quindi secondo me il finale è stato un po' affrettato potevano farlo un po' meglio comunque ora parlerò dei disegni diciamo che i disegni già dal primo volume sono carini molto carini molto ma molto carini queste sono scene le classiche scene che ci sono in questo manga splatter, gore vi faccio vedere la copertina del settimo che secondo me è una figata questo Ie Natsume Iyamabiki secondo me è una figata la copertina è forse la più bella di tutte e sette proprio questa una figata ecco diciamo che considerazioni finali carino solo sette volumi è straconsigliato soprattutto se nemmate The Promised Neverland o questo genere escape un po' tra l'oro lo splatter consigliato proprio perché è pochi volumi quindi non è una spesa eccessiva lo recuperate lo leggete facilmente disegni meritano come ho detto la storia non è una genialata di quelle però è comunque carina si fa leggere perché va talmente veloce il manga essendo solo da sette volumi che non ti dà il tempo di staccare gli occhi o di pensare ad altro resti incollato alle pagine una dopo l'altra proprio perché non ci sono buchi di trama non c'è pagine morte o momenti vuoti che non servono c'è questo pianeta questa terra distopica che non funziona bene le cose strane è un mondo una terra alternativa che magari potrebbe tranquillamente esiste in realtà perché nessuno lo sa anche se non penso spero di no però diciamo che è un po' l'ho vista un po' come denunciare il fatto della schiavitù soprattutto del periodo nazista fare esperimenti sulle persone un po' una denuncia anche al fatto del sovrappopolamento che a continuare così rubiamo tutte le risorse al nostro pianeta e come quelle creature dovremmo cercarcelo un altro ma adesso come adesso non abbiamo i mezzi tecnologici per poterlo fare e neanche abbiamo trovato un pianeta adatto ad abitabile quindi è una denuncia per farti capire aprire gli occhi guardate in questa necessità di consumo bisogna darsi una regolata non sfruttare così tanto il pianeta e soprattutto non sprecare così tante risorse perché magari adesso ci sono tra qualche anno i nostri figli non ci sono più quindi bisogna avere un occhio e stare attenti comunque io vi ringrazio se il video vi è piaciuto invito a mettere un like condividetelo attivate la campanella ci vediamo al prossimo